Donati macchinari sanitari, piccoli eredamenti e una console per videogiochi al reparto di dei ospital pediatrico dell'ospedale di Trento dal giocatore Giacomo Sintini. Per me è importantissimo essere d'aiuto per questi piccoli pazienti, ma tutti i pazienti, perché ho passato sulla mia pelle questa sofferenza e so quanto sia importante che qualcuno dall'esterno ti pensi, sapere che qualcuno dall'esterno pensa a noi. Quindi questo è un piccolo aiuto che vogliamo dare con l'associazione Giacomo Sintini e speriamo che ce ne siano tanti altri e grazie a voi che ci avete donato questi soldi per fare questi regali. In particolare, secondo la dottoressa Annunziata di Palma, le apparecchiature sanitarie sono indispensabili. La possibilità di somministrare ossigeno umidificato e concentrato ci consentirà di risolvere in modo più breve anche situazioni importanti di stress respiratorio nei bambini piccoli. Il materiale del valore di circa 12 mila euro è stato messo a disposizione dell'associazione Giacomo Sintini, che si occupa di raccogliere fondi per la ricerca medica contro le leucemie e linfomi. Il destino sportivo del palleggiatore del Trentino Volley non è ancora deciso, ma la promessa di Jack è quella che la collaborazione con l'ospedale Trentino non cesserà con questa prima donazione.